Le soluzioni Convolt permettono ai rivenditori di entrare direttamente nel business dei propri clienti perché permette loro di riorganizzare direttamente tutta la base dati dei clienti, ottimizzarla e evitare che crescano in modo incontrollato. Quindi di fatto permette di entrare nel vero e proprio core business attuale di praticamente tutti i clienti. Il primo passo nella gestione efficace dei dati di un cliente consiste nel segmentare e classificare i dati, andare ad individuare cosa effettivamente è utile per i clienti ed è utilizzato quotidianamente per il business, da cosa è meno utile o non viene utilizzato costantemente? Una volta che si prende atto di questa distinzione dei dati, li si può trattare e proteggere in modo completamente diverso, magari archiviando i dati più vecchi, magari nel cloud, e proteggere in modo adeguato i dati standard e concentrarsi il più possibile sui dati mission critical, business critical. Quindi su questi dati aumentare ancora di più il livello di protezione arrivando fino a qualche minuto di protezione del dato stesso. Ecco, questo permette di razionalizzare il tutto e perché no anche ridurre i costi alzando il livello di servizio offerto al business. Se un'azienda pretende di proteggere i dati semplicemente facendo una copia di backup integrale di tutti i dati non fa altro che sprecare spazio, sprecare infrastruttura, accumulare dati, aumentare i dati presenti all'interno dell'azienda complicando notevolmente la ricerca del dato stesso. Invece l'approccio di Convolt è, dopo una segmentazione, quindi una razionalizzazione del dato, andare ad applicare tecnologie diverse che permettono di sfruttare tutte le possibili offerte del mercato. Quindi le offerte cloud, le offerte dei dischi più a basso costo, le offerte o i vantaggi offerti dagli storage più performanti con tecnologie snapshot e quindi riesco ad ottimizzare con delle snapshot la protezione dei dati più importanti. Con un backup tradizionale i dati standard e un'archiviazione magari nel cloud dei dati meno acceduti. Quindi di fatto il backup inteso nel vecchio modo è del tutto superfluo, è superato al 100%. Grazie!